C'è una vittima della tragedia che ha colpito un pullman carico di rifugiati ucraini sulla 14 all'altezza di Forlì questa domenica all'alba. Il bus a bordo del quale si trovavano una ventina di persone è finito fuori strada e si è ribaltato per cause ancora da accertare. Alcuni passeggeri sono riusciti ad uscire in modo autonomo mentre altri sono rimasti sotto le lamiere. È il caso della donna rimasta uccisa che viaggiava insieme a due bambini presi in carico dai servizi sociali di Cesena. Ci sono anche altri feriti, nessuno in modo grave portati in ospedale per accertamenti. Il bus era partito direttamente dall'Ucraina ed era diretto a Pescara.